Oggi vi presento il libro illustrato Chi salverà Joe dal suo tablet di Alessandra Cerretti con illustrazioni di Albertina Neri edizioni Il Ciliegio. Com'è timido Joe e quanto tempo dedico ogni giorno ai giochi tecnologici eppure fuori ci sono tanti bambini, un bel parco per giocare insieme. Chi lo salverà dal suo tablet? Leggi questo libro e lo scoprirai. Joe è un bambino timido, ama giocare per ore con il suo tablet e è il suo migliore amico. Con gli occhi fissi sul video Joe gioca un'ora, due ore, tre ore. Improvvisamente l'ape del giochino che vola da un fiore all'altro esce dallo schermo e vola su, vola giù, vola di qua e di là intorno a Joe. Come sei fastidiosa, ritorna dentro, dice Joe muovendo la mano per allontanarla. Dopo vari giri in aria la svolazzante birichina lo lascia in pace e rientra nello schermo. Ma Joe spazientito interrompe il gioco. Dopo un'ora ricomincia a giocare con il suo tablet, questa volta tenendolo distante da sé. Un'ora, due ore, ecco che inaspettatamente la girandolina da sempre ferma lì nell'angolo dello schermo con i suoi colori inizia a girare, gira, gira, gira ed è talmente luminosa che sembra una stellina. Joe deve abbassare lo sguardo. Che colori luccicanti, che bella, ma non riesco a giocare, dice coprendosi gli occhi. Dopo poco la girandolina torna al suo posto, lasciandolo stupito e abbagliato. Così Joe spegne nuovamente il suo tablet. Più tardi riprova a giocare, indossando un paio di occhiali da sole. Non si sa mai se dovesse tornare la girandolina colorata, pensa. Cosa succederà a Joe? Per scoprirlo dovete leggere questo libro, adatto proprio alle prime letture, perché scritto in stampato maiuscolo. E questo libro si chiama Chi salverà Joe dal suo tablet, di Alessandra Cerretti, con illustrazione di Albertina Neri, edizioni Il Ciliegio.